Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova videosintesi di scienze. Come al solito prima di iniziarla invito tutti a iscrivervi al canale se non lo avete fatto perché la maggior parte delle visualizzazioni risultano da non iscritti e ad attivare la campanella delle notifiche. Iniziamo da oggi lo studio dei materiali che formano la crosta terrestre, i quali sono di due tipi, i minerali e le rocce, le quali sono mescolanze di più minerali. In questo video parleremo dei minerali. Un minerale è una sostanza chimica ben definita che è possibile esprimere tramite una formula chimica. Mentre nel mondo delle sostanze organiche e biologiche l'elemento che la fa da padrone è il carbonio, nel mondo minerale l'elemento più rappresentato è il silicio seguito da ossigeno e alluminio, anche se esistono minerali a base di carbonio come il carbonato di calcio, comunemente detto calcare. Quasi tutti i minerali si presentano come sostanze solide ad alto punto di fusione. La maggior parte di essi sono solidi cristallini, ovvero al loro interno gli atomi hanno una disposizione regolare e ordinata, dando vita ad un reticolo cristallino formato da unità ripetute o celle elementari, ripetute nelle tre dimensioni. Questa disposizione ordinata si riflette nella forma visibile del cristallo, che è geometrica. Nel mondo minerale troviamo le forme che studiamo in geometria solida, come cubi, prismi, piramidi, solidi con facce triangolari, quadrate, pentagonali, esagonali. Nell'immagine a sinistra pirite un solfuro di ferro e a destra cristallo di rocca, una varietà di quarzo formato da silicio e ossigeno. Esistono tuttavia alcuni minerali in cui gli atomi non formano un reticolo ordinato come quello cristallino, ma hanno una disposizione disordinata e casuale come quella di un liquido. Questi si chiamano minerali amorfi. Nonostante il termine significhi senza forma e non presentino cristalli di forma geometrica, alcuni di questi minerali come l'opale, altra varietà di quarzo, sono molto apprezzati per la bellezza dei loro colori e per i giochi di luce che creano. Come si formano i minerali? Molti minerali hanno origine vulcanica, ovvero si formano dalla solidificazione di magma vulcanico, inizialmente fuso e ad alta temperatura. Se la solidificazione è lenta, gli atomi hanno tempo per disporsi reticoli ordinati e si formano minerali cristallini. Se la solidificazione è rapida, si formano soprattutto minerali amorfi o con cristalli microscopici. Sempre in ambiente vulcanico è comune anche trovare cristalli gialli di zolfo. Questo però si forma per sublimazione, ovvero tramite il passaggio dello zolfo gassoso ad alta temperatura emesso dai crateri vulcanici direttamente allo stato solido, a causa del brusco raffreddamento. I cristalli, spesso perfettamente cubici del salgemma, cloruro di sodio e il comune sale da cucina, si formano invece a temperatura ambiente, tramite un processo di evaporazione di raccolte d'acqua salate in luoghi dal clima caldo e arido. L'acqua evapora e il minerale, superando la concentrazione di saturazione, precipita sul fondo e cristallizza. Alcuni minerali, inoltre, possono avere origine organica, ovvero derivare dall'attività di esseri viventi, come l'ambra, una resina fossile prodotta da antiche conifere, che nel corso del tempo diventa dura come una pietra e può conservare al suo interno degli insetti o altri piccoli animali rimasti intrappolati, come questo scorpioncino. I minerali organici sono sempre di tipo amorfo. Vediamo adesso di fare un accenno, con dei richiami di chimica, alla struttura chimica dei minerali. La maggior parte dei minerali, dal punto di vista chimico, sono solidi ionici, ovvero formati da atomi o gruppi di atomi, che hanno acquisito carica positiva o negativa tramite trasferimento di elettroni dall'uno all'altro, come nel caso del sodio, che trasferisce il suo unico elettrone esterno al cloro e acquista una carica positiva, mentre ne acquista una negativa al cloro. Atomi o gruppi di atomi provvisti di carica si chiamano ioni e si indicano con il segno più o meno della carica acquisita. Quando abbiamo un trasferimento di elettroni, gli ioni positivi e negativi così formati rimangono legati per l'attrazione tra cariche opposte. Si tratta di un legame molto forte, che spiega perché molti minerali sono solidi con alto punto di fusione. La disposizione degli ioni nel reticolo determina la forma visibile del cristallo, che in questo caso è una forma cubica. Quindi la maggior parte dei minerali sono formati da ioni, sono solidi ionici, legati con legami molto forti a formare grandi cristalli. La maggior parte, ma non tutti, i minerali sono composti ionici. Ad esempio nelle due forme di carbonio puro, diamante e grafite, gli atomi di carbonio formano una sorta di molecole giganti, mettendo in comune gli elettroni tra due atomi vicini, ovvero tramite legami covalenti. I due minerali di carbonio sono così diversi perché nel diamante a sinistra i legami tra atomi sono molto forti nelle tre dimensioni, tanto che è la sostanza più dura conosciuta, mentre nella grafite sono disposti su piani paralleli a unità esagonali che danno luogo a un minerale più tenero e sfaldabile, cioè facile da dividere in piani sottili e paralleli. Altri minerali, come nuovamente lo zolfo, sono invece formati da piccole molecole, in questo caso costituite ciascuna da otto atomi dell'elemento, unite tra loro da legami deboli. Minerali di questo tipo hanno bassa densità e basso punto di fusione. Infine, per vedere un altro esempio, in quei pochi metalli come il rame che qui vediamo, l'argento o l'oro che si trovano in natura allo stato elementare, si dice nativo, il reticolo è formato da ioni dell'elemento, tutti positivi, tenuti insieme dagli elettroni dei vari atomi che circolano liberamente tra gli ioni positivi. Questa particolare struttura chimica rende conto di alcune proprietà dei metalli, come la capacità di condurre correnti elettriche al loro interno. È un legame anche questo molto forte, infatti il punto di fusione dei metalli è sempre molto alto, o quasi sempre. Essendo i minerali delle sostanze chimiche ben definite, ciascuno di essi ha delle caratteristiche fisiche come la densità e il punto di fusione che lo identificano. Una delle caratteristiche più utili per l'identificazione dei minerali è la sua durezza, ovvero la resistenza che oppone ad essere scalfito, cioè inciso. Questa si determina in base alla scala di Moss, articolata in 10 gradi di durezza, che parte da minerali teneri che si incidono già con l'unghia come il talco al primo livello e il gesso al secondo, e arriva fino a quelli più duri, con il massimo grado di durezza il 10 che corrisponde al diamante. Ognuno dei 10 minerali campione è scalfito da quello che lo segue, più in alto, ed è in grado di scalfire quello che lo precede nella scala. Altra caratteristica fisica dei minerali riguarda le proprietà ottiche e il comportamento nei confronti della luce. La lucentezza è il loro comportamento quando vengono illuminati. Alcuni, pirite a sinistra, riflettono indietro la luce come uno specchio, e allora parliamo di lucentezza metallica, mentre altri, come quello che vediamo a destra, sono trasparenti, ovvero si lasciano attraversare completamente dalla luce come vetro, lucentezza vitrea. Un'altra proprietà ottica dei minerali è l'indice di rifrazione, ovvero la capacità di deviare la direzione di un raggio di luce quando l'attraversa. Qui vediamo un minerale particolare, lo spato di Slanda, calcite, una varietà di calcite con una caratteristica unica, ovvero quella di sdoppiare i raggi luminosi da cui attraversare. Si chiama birifrangenza, tanto che la scritta visibile attraverso di esso, qui Università di Napoli, appare anch'essa sdoppiata. Una caratteristica molto appariscente ed attraente di molti minerali è il colore, soprattutto attraente per i collezionisti. Questa caratteristica però non è così decisiva nell'identificazione di un minerale, perché alcuni, come quelli rappresentati in questa immagine, effettivamente si presentano sempre nello stesso colore, ma questi non è vero per tutti i minerali. Inoltre minerali diversi si possono presentare in un colore simile, ad esempio tutti i minerali di rame hanno, o quasi tutti, la maggior parte hanno un colore blu intenso, come l'azzurrite. Altri invece, esistono inoltre varietà invece dello stesso minerale, come il quarzo, che è quello più diffuso sulla crosta terrestre, che si presentano in forme e colori completamente diversi. Il quarzo, formato da silicio-ossigeno, abbiamo detto il minerale più abbondante in natura, si può presentare in molte forme e colori diversi, dai cristalli viola dell'ametista, che riempiono spesso intere cavità rocciose dette geodi, a forme addirittura amorfe, come l'occhio di tigre o l'opale, che abbiamo visto in precedenza. Un'altra, infine, caratteristica fisica che hanno alcuni minerali è la sfaldabilità, ovvero la capacità di dividersi in lastre sottili e parallele. Altri minerali ancora possono avere proprietà magnetiche, come la magnetite, o altre legate alla capacità di condurre la corrente elettrica se riscaldati o sottoposti a pressioni, effetto piroelettrico, piezoelettrico, rispettivamente. Non ci addentreremo troppo nella classificazione dei minerali, accenniamo solo al fatto che questa è di tipo chimico. Basata sul tipo è la disposizione degli elementi chimici legati tra di loro. Gli elementi nativi sono formati da atomi dello stesso elemento, alcuni metalli liberi come l'oro, il diamante, la grafite, lo zolfo. I minerali di tipo ionico, tutti quelli che vediamo qui, prendono il nome dallo ione negativo. In quest'immagine, dopo l'oro, vediamo la fluorite, formata da fluoro e calcio che è un metallo, la celestina che è un solfato di stronzio. In basso vediamo un ossido di alluminio, varietà rubino, ma anche lo zaffiro blu è la stessa sostanza o corindone che è il secondo per durezza solo al diamante. E' uno dei silicati più semplici che si chiama olivina. Per i silicati, rinvio al video, su crosta e interno della terra. Inoltre ci sono anche i carbonati, anche minerali a base di carbonio come il calcare, o fosfati a base di fosforo come la turchese, queste sono solo alcune categorie. Un altro modo ancora per classificare i minerali è basato sulle forme dei loro cristalli, spesso solidi geometrici come qui vediamo dalla forma semplice, cubi, piramidi, prismi, anche diciamo composti insieme, oppure dalla forma più complessa, masse grossomodo sferiche, ramificate, aghi e quant'altro, e il loro abito si dice cristallino. Molti minerali hanno anche un interesse economico, in alcuni casi per il loro valore, oro, argento, platino, diamanti, in altri casi perché da essi, soprattutto da quelli dalla composizione semplice come gli ossidi, formati solo da ossigeno e un atomo metallico, è possibile ottenere tramite reazioni chimiche appropriate metalli o altri prodotti chimici con importanti applicazioni industriali. In questa carta vediamo quali sono le zone del mondo in cui si concentrano le maggiori risorse minerarie. Per vedere la video lezione completa, link in descrizione o qui sulla schermata finale. Ciao a tutti e alla prossima video lezione.